Luna, una gattina rossa di sette mesi, era stata uccisa a colpi di fucile nel centro abitato di Montevarchi, un terribile episodio che si era consumato nello scorso gennaio. Adesso i carabinieri di Levane hanno individuato e denunciato il responsabile, un sessantenne di Montevarchi, che dovrà rispondere del reato di uccisione di animali. Le indagini erano partite a seguito della denuncia della proprietaria della gattina, che era stata trovata a riversa terra in fin di vita in una pozza di sangue. Inutile la corsa al pronto soccorso veterinario e l'intervento d'urgenza. L'esame medico però aveva consentito di far luce sulla situazione. Qualcuno aveva sparato con un'arma d'aria compressa dei pallini, uno dei quali aveva colpito mortalmente la gattina. I militari hanno così effettuato un accurato sopralluogo sul luogo di rinvenimento, ascoltato possibili testimoni e soprattutto si sono consultati con un esperto per le valutazioni di carattere balistico, accertamenti che hanno consentito di restringere il cerchio e di ipotizzare la responsabilità di un soggetto, un uomo di 60 anni, incensurato, che vive nella zona e che in più circostanze aveva manifestato la propria insofferenza nei confronti degli animali. I militari hanno così chiesto alla procura della Repubblica di Arezzo di emettere un decreto di perquisizione e sequestro. In casa del 60enne sono state trovate tre armi ad aria compressa, una carabina e due pistole di libera vendita e quindi legalmente detenute, potenzialmente compatibili con le ferite che hanno portato alla morte di Luna. Le armi sono state immediatamente sequestrate e per l'uomo è scattata la denuncia.